E' stato un piacere parlare comunque per me e di là qualcuno c'era, di là qualcuno c'era. E' sempre un piacere con l'onda che passa di qui e qui sentire l'onda sentirei che sono quello che ti tiene sullo specchio. Ma quello che ci vedi è sempre solo quello che decidi qui, uno dei tanti ed è. Lì ci sentite bene, lì vi sentite bene, lì non sentite che qui uno dei tanti è lì. Non ho granché da dire, ma quello mi viene bene, mi viene quello di sempre che serva a qualcosa. Sempre che, non lo so, serve a qualcosa uno in mezzo a tanti è lì. E' un nastro che gira, su un mondo che gira di più, vorresti essargi un giro o vuoi girar di più? E' sempre un piacere, ma qui si fa quel che si può, se quello può bastare, se invece no. Sono quello che ti tiene sullo specchio, ma quello che ci vedi è sempre solo quello che decidi qui, uno dei tanti ed è. Lì ci sentite bene, lì vi sentite bene, lì vi sentite godi. Qui, uno dei tanti ed è lì, non ho granché da dire, ma quello mi viene bene. Mi viene quello lì, sempre che serva a qualcosa, sempre che, certo che, serve a qualcosa uno in mezzo a tanti è lì. Grazie a tutti.